Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Via libera dall'Assemblea Legislativa alle modifiche della legge contro il gioco patologico. Ce ne parla Tiziano Bertini. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli e 3 astenuti di Movimento 5 Stelle e Forza Italia la proposta di modifica della legge regionale norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico di iniziativa della consigliera Carla Casciari del Partito Democratico. riguarda l'equiparazione tra le sale da gioco e le sale scommesse, sottoponendo anche queste ultime ai limiti previsti relativamente alla distanza da punti sensibili come scuole, centri di aggregazione giovanili e luoghi di culto. Inoltre, con un ordine del giorno approvato a larga maggioranza, è stato chiesto al Governo di emettere una chiara e netta direttiva in campo nazionale che riguardi gli orari di accesso a sale da gioco e simili, tale da consentirne un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Con le modifiche normative approvate, si intende quindi fornire alle amministrazioni locali ulteriori strumenti per fronteggiare con tempestività e certezza i rischi provenienti dal proliferare anche sul territorio regionale di luoghi dediti ad attività riconducibili al gioco d'azzardo. Audizioni in terza commissione sulle dipendenze. Ascoltati i responsabili dei CERT Umbri e dei Dipartimenti Salute Mentale. Il servizio. Le dipendenze sono in continua crescita fra i giovani, ma non si tratta più solo del consumo di droghe come qualche tempo fa, ma anche di dipendenze comportamentali come quella dal gioco d'azzardo o dall'utilizzo prolungato di internet che in alcuni casi, anche in Umbria, hanno portato a vere e proprie sindromi da ritiro sociale, con giovanissimi che non escono più dalla propria camera per restare connessi e genitori disperati che non sanno a chi rivolgersi. Queste considerazioni sono immerse nell'audizione della terza commissione presieduta da Tilio Solinas con i rappresentanti dei CERT e di alcuni Dipartimenti Salute Mentale Umbri, specificamente richiesta dal consigliere Marco Squarta del gruppo Fratelli d'Italia che ha presentato una mozione con cui vuole impegnare la Giunta a promuovere un nuovo modello di intervento e di presa in carico precoce dei pazienti più giovani. Tutti gli intervenuti hanno affermato che servirebbe una rete trasversale di collaborazioni molto strette fra i professionisti che possano sviluppare gruppi di lavoro per seguire utenti utilizzando la rete e tutte le potenzialità disponibili. Accanto a ciò gioca un ruolo fondamentale la scuola per quanto riguarda la prevenzione. E già si vedono risultati positivi con la Peer Education che valorizza il contributo degli stessi ragazzi in favore dei loro coetanei, bypassando la difficoltà degli adulti di trovare il lessico e il modo giusto per incidere sulla consapevolezza e sui comportamenti dei giovani. I dati rilevati sui giovani in età scolare dicono che al primo posto fra le problematiche di abuso e di dipendenza c'è l'alcol, con l'80% dei ragazzi che ha dichiarato di aver bevuto forte almeno una volta nell'anno in corso. Al secondo posto fra le dipendenze vi è il gioco d'azzardo, a seguire il consumo di cannabis, lo ha ammesso il 27% dei ragazzi, tabacco 25%, poi le altre sostanze in percentuali notevolmente minori pur trattandosi però di sostanze più pericolose come cocaina 2,9% ed eroina 1,9%. Potrebbero essere necessari, è stato evidenziato, momenti di residenzialità per i minori in cura. In Umbria vi sono solo comunità a valenza socioeducativa, ma c'è necessità di comunità a valenza terapeutica per evitare che i ragazzi vadano in strutture fuori regione e non possano più essere adeguatamente seguiti da chi li ha presi in carico. Al termine dell'audizione il presidente Solinas ha ringraziato gli intervenuti per il contributo apportato ed ha annunciato che verrà presentata in aula una proposta di risoluzione includente le istanze rappresentate dai servizi di cura. Ed ancora la terza commissione, presieduta da Tilio Solinas, ha dato parere favorevole con i voti dei commissari della maggioranza e l'astenzione di quelli delle opposizioni, alla parere richiesto dalla Giunta sul regolamento concernente la disciplina per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario. Le ambulanze per il trasporto sanitario devono possedere elevati standard qualitativi, un limite massimo di 300.000 km percorsi e non più di 7 anni di utilizzo dalla data di immatricolazione. È stato l'assessore alla sanità, Luca Barberini, a spiegare i dettagli del nuovo regolamento. Audizione in seconda commissione in merito alla situazione dell'azienda ex Novelli. In proposito è stato ascoltato Saverio Greco, amministratore proprietario di Alimenti Italiani SRL, il servizio. L'ex azienda Novelli ha ripreso a camminare e i numeri dal 1 gennaio 2017 ci stanno dando ragione. L'ha detto nel corso di un'audizione in seconda commissione preseduta da Eros Brega il proprietario e amministratore di Alimenti Italiani SRL, Saverio Greco, invitato a Palazzo Cesaroni per relazionare sulla situazione relativa all'ex Novelli, oggi Alimenti Italiani, sul piano industriale e sulle prospettive, con particolare riguardo agli standard produttivi e occupazionali. L'incontro è stato richiesto dalla vicepresidente della commissione, Emanuele Fiorini della Lega Nord. Rispondendo alle domande dei commissari presenti, Greco ha spiegato che con la domanda di concordato preventivo si è dovuta stoppare l'enorme mole debitoria che proveniva dal passato. L'accordo sindacale stipulato al Mise ha spiegato sta procedendo nella sua attuazione e anzi è stato addirittura abbattuto il numero originario di esuberi, in quanto, ha detto, si sta lavorando alla rimodulazione degli aspetti organizzativi. In sostanza, ad oggi, da 51 esuberi previsti tra gli impiegati si è scesi a 41. Dalla relazione di Greco è emerso che nel 2016 le perdite erano di circa 1.200.000 euro al mese, nel 2017 viene invece previsto un utile di circa 2.800.000 euro. Prevista per il prossimo 19 giugno un'audizione con i sindacati, a cui farà seguito un nuovo incontro con l'amministratore di Alimenti italiani SRL Saverio Greco. La terza commissione si è riunita nella sede della Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo Perugino con l'ausilio dei docenti Luca Ferrucci, Ambrogio Sant'Ambrogio e Giorgio Montanari per una missione valutativa sulla legge 12 del 1995, sostegno all'imprenditoria giovanile, tema di interesse non solo politico ma anche universitario. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. La missione valutativa è stata intrapresa dopo che i membri della commissione presieduta da Attilio Solinas hanno constatato che la clausola valutativa della legge 12 aveva prodotto relazioni molto dettagliate sulle caratteristiche delle imprese, sull'entità delle risorse stanziate ma molto scarne rispetto all'efficacia della legge. La legge 12 intende favorire le imprese di giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno difficoltà di accesso al credito e al mercato del lavoro attraverso contributi finanziari e assistenza tecnica. È emerso che meno del 10% di imprese giovanili che ogni anno si costituiscono e vengono perciò rilevate da Union Camere partecipano all'intervento della regione. Per la gran parte si tratta di ditte individuali. Solo una domanda su quattro fa riferimento a società. I settori di attività più gettonati sono il commercio e le attività di servizi di alloggio e ristorazione. Le risorse disponibili nel periodo 2009-2016 sono state 16 milioni di euro, pari all'80% dei 20 milioni necessari a soddisfare tutte le domande ammesse al finanziamento. Su questa platea sono state fatte le valutazioni circa l'efficacia dei contributi regionali e le risultanze dicono che le imprese che usufruiscono di contributi pubblici hanno probabilità di sopravvivenza molto elevate, più del 95%. Si registra la mancata partecipazione di imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione, cheppure hanno priorità, mentre gli effetti maggiori del contributo regionale si hanno a favore delle imprese a conduzione femminile. In conclusione, il Presidente della Commissione, Attilio Solinas, ha detto che la missione valutativa su questa legge, con l'ausilio dell'Università, è un passo importante per valutarne l'efficacia, a capire se è utile a combattere la disoccupazione giovanile e a utilizzare al meglio le risorse pubbliche. Ma è anche solo il primo passo, ha detto Solinas. Dobbiamo arrivare a sapere dalle aziende cosa hanno fatto, quante persone hanno impiegato, raccogliere sistematicamente dati per valutare a fondo ed eventualmente correggere quegli aspetti su cui l'efficacia della legge non è chiara o non è emersa. Il Comitato di monitoraggio e vigilanza sull'amministrazione regionale ha ascoltato a Palazzo Cesaroni, il commissario straordinario e i responsabili dei diversi settori dell'Agenzia Umbria Ricerche, in previsione della imminente riforma degli enti di ricerca regionali. I dettagli nel servizio. L'AUR rappresenta una eccellenza scientifica da salvaguardare e per questo è necessario aumentare la dotazione organica attuale, soprattutto nell'ambito della ricerca e dell'editoria. Servono certezze per il futuro, specialmente per chi lavora all'interno della struttura con contratti a tempo determinato. Auspicabile un collegamento diretto, oltre che con la Giunta regionale, anche con l'Assemblea legislativa, soprattutto per una attenta valutazione delle leggi e quindi delle politiche messe in campo. Necessaria maggiore chiarezza nel contesto della riforma degli enti di ricerca regionali, insufficiente il contributo della Regione per il 2017 per le spese di funzionamento, che potranno tuttavia essere coperte dietro autorizzazione della Giunta regionale, grazie ad un cospicuo avanzo di amministrazione che nel 2016 è stato di 349.385 euro. È quanto emerso dalla riunione del Comitato di Monitoraggio e Vigilanza sull'amministrazione regionale, presieduto da Raffaele Nevi, e al quale hanno preso parte in audizione il commissario straordinario dell'AUR, Anna Ascani, ed altri rappresentanti dell'Agenzia, in merito alla imminente riforma degli enti di ricerca regionali. Consegnati dalla Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, gli attestati di partecipazione al progetto Peo School. Vediamo. Le istituzioni che si aprono ai giovani dimostrano di non essere autoreferenziali e aiutano nel percorso di crescita nella cittadinanza attiva. Così la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, rivolgendosi agli studenti delle due classi dell'Istituto Volta di Perugia, che hanno partecipato al progetto Peo School, promosso dall'istituzione con l'obiettivo di dare voce ai giovani, coinvolgendoli nel processo di partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto europeo. Gli studenti del Volta, nelle scorse settimane, erano stati ascoltati in audizione dalla prima commissione dell'Assemblea Legislativa, avendo così l'opportunità di conoscere, discutere e proporre le proprie osservazioni su tre comunicazioni del dicembre 2016 della Commissione Europea, legate alle nuove opportunità per i giovani per studio, formazione e lavoro. La Presidente Porzi ha ricordato che proprio dagli studenti è arrivata l'idea dell'inserimento delle esperienze di volontariato in misura maggiore nelle discipline scolastiche per l'acquisizione di competenze che potranno essere riutilizzate. Un'idea, ha detto Porzi, che dimostra sensibilità e voglia di fare da parte dei ragazzi. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.